Il nome che ha permesso alla maggioranza della Comune di Taranto di chiudere il rimpasto senza modificare troppo gli equilibri, Federica Simili è il nuovo assessore all'Università Pubblica Istruzione ed Edilizia Scolastica della Comune, proposta da Italia Viva che attraverso la voce del Presidente regionale Massimiliano Stellato aveva chiesto con forza l'ingresso in giunta. Sostituisce Desiree Petrosillo, che era stata nominata in quota Taranto Crea Giuseppe Fiusco, da cui adesso ha marcato le distanze. Simili ha appena preso pieno possesso delle sue funzioni. Antena Sud l'ha raggiunta in assessorato raccogliendo le prime emozioni da componente di giunta. Tanta emozione, tanta responsabilità e gli obiettivi sono sempre gli stessi, ovvero quelli di poter portare qualsiasi cosa a migliorare all'interno delle scuole, all'interno degli esili e soprattutto all'interno dell'Università e dei giovani, perché il nostro punto focale saranno proprio i giovani. Tutto quello che si potrà istruire per i giovani sarà la cosa più importante e avrà priorità. La nomina di Simili ha causato l'uscita da Italia Viva della consigliera comunale Carmen Casula, che ha spiegato di non essere stata interpellata sulla decisione. Il neoassessore non commenta, ma sottolinea la piena appartenenza al Movimento Renziano. È una nomina di partito, una nomina condivisa e una nomina che rappresenta il partito che rappresento, ovvero Italia Viva. Ringrazio sempre comunque il Sindaco per la possibilità che mi ha dato, ma soprattutto tutti gli organi del mio partito.